Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 che apriamo parlando di quanto sta accadendo un po' in tutta Europa, in particolare in Belgio in questi giorni con questo clima che si sta diffondendo di paura per sventare eventuali attacchi terroristici nella capitale del Belgio. Bruxelles continua dunque a mantenersi alto il livello di tensione per la paura di questi attacchi dopo la strage dello scorso 13 novembre a Parigi. Clima atteso anche tra i cittadini, strade poco trafficate, massima sorveglianza anche nelle attività economiche. Questo ci racconta la collega Chiara Morelli, giornalista che si trova a Bruxelles per lavoro e che sta vivendo da vicino queste ore di tensione e di paura. Come ci racconta in questa intervista che abbiamo registrato nella tarda mattinata di oggi. Ieri pomeriggio c'è stata la conferenza stampa congiunta tra la Procura federale e il centro di sicurezza, dove hanno confermato l'allerta 4, che è il massimo livello di allerta dove ipotizzano un attentato nell'immediato, mettiamola in questi termini. Il livello 4 è stato confermato per tutta la settimana, in aggiunta hanno confermato anche la chiusura delle metro per oggi e probabilmente riapriranno un po' alla volta a partire da domani. La chiusura delle scuole che c'è stata in questi due giorni è confermata per oggi, probabilmente per domani ci sarà la riapertura anche degli istituti scolastici. Diciamo che abbiamo vissuto la situazione più grave e più tesa domenica sera, quando ci sono stati questi blitz su tutta la città. Per cui lì c'era il coprifuoco, si viveva, si sentiva, si avvertiva. La stessa cosa non si vive in questi ultimi giorni, però è chiaro che siamo invitati a restare ciascuno a casa, proprio per evitare di trovarci magari in situazioni piuttosto complesse e difficili da gestire. Io devo aggiungere una nota, oggi sono uscita dopo giorni di reclusione, se così si può dire, di reclusione in casa, sempre nel rispetto di quello che era l'invito delle autorità, sono uscita questa mattina per recarmi al lavoro, sempre con uno stato di apprezzione e di tensione che tutti possono immaginare. Molte strade sono completamente spopolate, altre invece si congestionano proprio perché il traffico viene canalizzato lì. Di conseguenza cercavo di filmare questi momenti. Sono stata avvicinata da un addetto alla sicurezza di uno di questi palazzi, non un militare e non un poliziotto, il quale mi ha invitato a spegnere immediatamente qualunque tipo di apparato, proprio perché in questo momento la polizia si vede che filmi anche solo dei palazzi, delle istituzioni europee o comunque dei palazzi circostanti, si insospettisce, viene e requisisce il tuo materiale e difficilmente porti a termine quello che è il tuo lavoro. In Belgio ci sono, come te, tanti nostri connazionali e soprattutto tanti corregionali, insomma avrei avuto modo sicuramente di parlare con qualcuno di loro che dicono che come la stanno vivendo questa situazione, a parte quello che ci hai raccontato tu. Da parte loro si vive la stessa apprezzione, si è costantemente in contatto, ci si scambia queste preoccupazioni e un po' di conforto, se così vogliamo dire. Però c'è sicuramente uno scambio continuo, un canale continuo di aggiornamento, questo sì. In Belgio è abbastanza insolito vivere queste situazioni, insomma un paese che sicilmente va agli onori delle cronache, diciamo. Esatto, non ho un'esperienza pregressa qui, diciamo che sono qui da qualche mese, per cui quello che riesce a emergere dal racconto delle persone che sono qui da molti anni è proprio questo, che questa è una situazione di vera emergenza, non c'è mai stata un'allerta così forte, non c'è mai stato un pericolo così palpabile da vicino. Sul recente salvataggio di Banca Carichietti e sullo stato economico della nostra regione e anche di quanto accaduto alle altre casse di risparmio abruzzesi, nel recente passato abbiamo ascoltato il punto di vista dell'economista Pino Mauro. Professor Mauro, cosa sta accadendo al sistema bancario italiano e anche cosa è accaduto nelle ultime ore alla Carichietti, alla Banca Carichietti? Beh, finalmente possiamo dire che è finito tutto un periodo di incertezza che si trascinava ormai da molti anni, per cui soprattutto le banche abruzzesi e la Carichietti nella fattispecie potranno cominciare a lavorare con maggiore tranquillità e minore incertezza rispetto al passato. Questo credo che sia l'aspetto più interessante da sottolineare. Poi è chiaro che dal primo gennaio molte cose cambieranno per quanto riguarda le regole del salvataggio. Cosa cambia per i correntisti di Carichietti se cambia qualcosa? No, per i correntisti non cambia assolutamente nulla, mentre per gli azionisti ovviamente sì, perché le azioni sono state azzerate. Ma perché è accaduto tutto questo? E poi le chiedo anche, quello che è accaduto alle casse di risparmio abruzzesi ha a che fare anche con l'andamento economico della regione? Indubbiamente questo periodo di crisi ha influito notevolmente. Sappiamo tutti che è stata una crisi devastante, per cui molti piccoli imprenditori soprattutto non sono stati in grado di restituire i crediti che erano stati in precedenza erogati. E questo ha influito negativamente perché ha accelerato il processo di, come vi ho detto in gergo, di sofferenze. A questo si aggiunge alcuni fatti, alcuni fattori che hanno determinato il commissariamento, che ha ulteriormente appesantito il quadro complessivo. E quindi oggi, ecco perché dicevo prima, oggi le cose possono essere interpretate in maniera più ottimistica. Certo, la crisi che c'è stata in questa regione è stata forte, in alcuni grandi aggregati economici è stata più incisiva rispetto ad altre regioni. Però credo che anche da questo punto di vista ci sia un segnale di ripresa non più oscillante, ma che sta diventando stabile di giorno in giorno. E' finito in carcere a Pescara Nicolli Renoir, l'albanese di 25 anni bloccato ieri sera dai carabinieri dopo aver seminato il terrore a Montesilvano, provocando otto incidenti nel corso di un inseguimento con tanto disparatoria. Il giovane è accusato di tentato omicidio, resistenza e ricettazione. Il 25enne, incensurato alla guida di una Mercedes rubata e segnalata come sospetta per alcuni furti, ha forzato un posto di blocco tra Pianella e Cappelle sul Tavo, sempre nel Pescarese. Otto in tutto gli incidenti provocati con ingenti danni ai mezzi coinvolti. I militari dell'arma hanno sparato due volte alle gomme della Mercedes durante l'inseguimento ed altri sette colpi in aria prima di fermare il 25enne. E' stata inviata al 3 maggio del 2016 per il deposito delle memorie istruttorie per la valutazione dell'eccezione presentata dalla difesa, l'udienza della causa intentata dal Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, nei confronti del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, al centro di una richiesta di risarcimento danni da 200 mila euro per diffamazione a mezzo stampa. Prima udienza al Tribunale di Pescara per il caso del risarcimento chiesto dal Governatore D'Alfonso al consigliere regionale Domenico Pettinari. Il caso è quello dell'edificio dell'ASL di Via Rigopiano, che già tante polemiche aveva suscitato. Domenico Pettinari, circondato da sostenitori e colleghi, non mostra debolezze. Piena fiducia nella magistratura, come ho sempre avuto nella mia vita. Il Presidente D'Alfonso ricordo che in aula ha detto che è la prima volta in vita sua che era stato costretto a citare in giudizio un avversario politico. Sono contento e soddisfatto per i grandi attestati di stima e di fiducia, di solidarietà da parte dei cittadini. Oggi qui ci sono decine e decine di cittadini. Questo mi fa piacere e nulla. Aspettiamo il verdetto della magistratura. A difendere il grillino è l'Avvocato Donatella Rossi. Il Governatore D'Alfonso invece si è affidato a Carla Tiboni. La prima udienza finisce con un rinvio al 3 maggio per ammissione dei mezzi istruttori. A sostenere in aula Domenico Pettinari c'è anche la consigliera regionale Sara Marcozzi, che commenta così l'azione legale messa in campo dal Governatore D'Alfonso. Il Movimento 5 Stelle pensa che questo è il Presidente di Regione più debole della storia d'Abruzzo. Se un Presidente di Regione non è in grado di rispondere alle domande che un consigliere regionale fa nello svolgimento delle sue funzioni e prerogative ed è costretto a ricorrere alle aule di un tribunale, questo è solo un segno di grande debolezza del Presidente D'Alfonso e o di grande forza del Movimento 5 Stelle, che evidentemente è l'unica vera opposizione mai esistita. Quella che ha fatto Pettinari è una domanda che si sarebbero fatti tutti i cittadini, una domanda legittima, perché se un palazzo è stato acquistato due anni fa a 900 mila euro, la Regione Abruzzo lo ha acquistato a 3 milioni di euro. I cittadini se la sarebbero fatta questa domanda? Tutti assolti nel processo sulla rifiutopoli abruzzese, nato da un'inchiesta del 2008 e basato sulle vicende relative alla realizzazione di un impianto di bioessiccazione a Teramo. Il giudice del Tribunale collegiale di Pescara, Angelo Zaccagnini, ha assolto, perché il fatto non sussiste, l'ex assessore regionale, Lanfranco Venturoni, l'imprenditore Rodolfo Di Zio e il deputato di Forza Italia, Fabrizio Di Stefano. Assolti per non aver commesso il fatto, l'imprenditore Ferdinando Ettore Di Zio e l'ex amministratore delegato della società Teramo Ambiente, Vittorio Cardarella. Gli imputati erano accusati a vario titolo di corruzione, istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, peculato, turbativa d'asta e millantato credito. I PM Varone e Mantini, nella loro requisitoria, avevano chiesto 5 anni di reclusione a testa per Venturoni e Rodolfo Di Zio, un anno e 6 mesi per Di Stefano e l'assoluzione per Cardarella e Ferdinando Ettore Di Zio. La sentenza è stata emessa dopo che il 30 ottobre scorso la Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato l'istanza di ricusazione presentata dai legali di Di Stefano nei confronti di Francesco Marino, uno dei componenti del collegio giudicante del Tribunale di Pescara. Resta la preoccupazione nel mondo delle imprese e del settore turistico balneare per l'applicazione della direttiva Bolkestein che obbliga la messa a gara delle concessioni demagnali nella sede di Confindustria a Pescara. Se ne è discusso per tentare di trovare una soluzione che salvaguardi gli investimenti fatti dagli attuali operatori. Analizzare le problematiche che investono il settore alla luce dei cambiamenti della legge. E' questo il tema dell'incontro che il presidente nazionale di Asso Balneari, Fabrizio Licordari, ha affrontato con gli operatori del settore abruzzesi nel corso di un incontro che si è tenuto ieri pomeriggio nella sede di Confindustria a Pescara. Ospite, tra gli altri, il primo firmatario del DDL sull'alienazione dei beni immobili del demanio marittimo Massimo Baldini, ex senatore del PDL. Noi naturalmente cerchiamo di fare in modo che la Bolkestein si arresti, che a un certo punto venga cancellata per quanto riguarda le imprese balneari, soprattutto per quanto riguarda la certezza di queste aziende nella prospettiva del lavoro, dell'impegno, dell'innovazione e così via. Noi siamo fortemente interessati naturalmente a tutelare queste aziende in quanto riteniamo che costituiscono l'asse portante dell'economia turistica nazionale. A preoccupare di più i balneatori è la possibilità che la messa a gara di evidenza pubblica europea delle concessioni spiani la strada a grandi gruppi del settore turistico contro i quali sarebbe difficile competere. Per questo anche la regione Abruzzo chiede ad Europa e il governo italiano una proroga delle concessioni esistenti, come accaduto in altri paesi europei, che consenta agli operatori il rientro dagli investimenti effettuati. Noi come regione Abruzzo ci siamo appellati anche al governo nazionale che si porti comunque a fare subito un doppio binario che sarebbe per coloro i quali che dovranno già lavorare sul campo della balneazione di dare una proroga che possa essere minima di 30 anni e nel frattempo adottare a Bolksen su quelli che sono i nuovi stabilimenti balneari. Stiamo notando che c'è una disparità di trattamento tra i paesi europei, la Spagna ha ottenuto per le concessioni che scadranno il 2018 un periodo di proroga da un minimo di 30 a un massimo di 75 anni, per lo stesso tipo e la stessa qualità di impresa come la nostra e il Portogallo ha il diritto di insistenza, cioè una norma che l'Italia invece in nome proprio delle imposizioni arrivate da Bruxelles ha dovuto abrogare. Firmato oggi il protocollo d'intesa tra Confindustria e Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione di percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro. Armonizzare anche in Abruzzo il sistema scuola e il sistema impresa con percorsi di formazione nei luoghi di lavoro e di produzione di 400 ore nel triennio per istituti tecnici e professionali e di 200 ore per i licei statali. Questo è il contenuto saliente del protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina dal direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Ernesto Pellecchia e dal presidente di Confindustria D'Agostino Ballone. L'obiettivo di questa alternanza tra banco di scuola e apprendistato in azienda, previsto dalla legge 107 del 2015, ovvero della buona scuola, è stato sottolineato più volte e rappresenterà un'opportunità per individuare talenti che potranno integrarsi negli organici aziendali e servirà a preparare una generazione di giovani che avranno meno difficoltà a trovare lavoro o terminati gli studi. Del resto l'integrazione della formazione scolastica teorica con la pratica delle aziende, che qui in Italia è ancora la fase embrionale, in Germania, per fare solo un esempio, è un percorso consolidato da mezzo secolo e contribuisce in modo determinante, confermano molti studi, alla solidità e competitività del sistema produttivo tedesco. C'è stata una maggiore attenzione da parte delle gestioni verso queste esperienze di alternanza scuola-lavoro e conseguentemente da parte delle scuole c'è un maggior onere dal punto di vista organizzativo, dagli attempimenti, ma anche dal punto di vista delle opportunità, perché attraverso questa valorizzazione di questi percorsi si riesce a sviluppare ulteriormente il soggetto forte in modo più efficace, quello che noi definiamo rapporto scuola-mondo del lavoro. Le aziende andranno a stipulare convenzioni dirette sulla base di questo protocollo con i singoli istituti e quindi si andrà a fissare quelli che saranno i momenti di formazione dei ragazzi. Quindi questo è un po' in sostanza, come sa, la formazione avviene sui tre cicli scolastici, dalle terze, quarte e quinte. Quest'anno si parte con le classi delle terze superiori naturalmente, con un monte ore di 200 ore al ragazzo. Quindi insomma sono anche orari impegnativi per cui c'è da lavorarci sopra. Grazie. A Francavilla verranno posizionati sui binari degli appositi attenuatori di rumore per ridurre l'impatto acustico del passaggio dei treni. I lavori costeranno 400 mila euro e interesseranno 600 metri di tracciato ferroviario a ridosso delle case. Con orgoglio abbiamo detto che saremo la prima città in Italia ad avere questo nuovo sistema che verrà sperimentato qui, inizialmente per un tratto solo di 600 metri, ma se questo sistema funziona le ferrovie ci hanno già garantito che copriranno l'intero territorio. È un sistema che non dà nessun impatto visivo perché viene posto sulle rotaie e riesce almeno così ci si auspica, riesce ad abbattere sia il rumore che le vibrazioni del passaggio del treno di una buona metà, di 4 decibel che corrispondono alla metà del rumore che noi percepiamo. È un sistema che ha brevettato un abruzzese e questo ci rende ancora più orgogliosi e quindi siamo stati qui ad annunciarlo alla città intera con la presenza dell'ingegner Stefano Morellina che è il responsabile di RFI. Adesso abbiamo avviato la fase di sperimentazione che interessa un tratto di 600 metri di binario all'interno della città di Francavilla e abbiamo avviato la fase dei rilievi che dovrebbe durare circa 3 mesi. Come investimento è un investimento importante perché le ferrovie hanno creduto in questa progettazione, in questa sperimentazione, hanno investito 450 mila Euro. Se la sperimentazione dovesse dare risultati positivi, questi ammortizzatori verranno estesi a tutto il territorio di Francavilla con un investimento veramente molto molto forte. I 27 sindaci del territorio terramano che fanno parte del consorzio BIM sono stati nuovamente chiamati a pronunciarsi sull'eventuale scioglimento del consorzio. Su richiesta del presidente della seconda commissione, il consigliere Riccardo Mercante del Movimento 5 Stelle ha espresso nuovamente ai sindaci del territorio terramano la proposta di sciogliere il consorzio BIM. Il rappresentante terramano all'emiciclo avrebbe preso spunto da una legge del 2011 che chiedeva ai comuni di pronunciarsi sul mantenimento in vita dei consorzi. Quasi nessun consiglio comunale si è pronunciato e questo per Mercante avrebbe il valore di una sorta di silenzio assenso alla soppressione, ma i 27 sindaci convocati hanno nuovamente espresso all'unanimità il loro no alla soppressione dell'ente durante l'incontro di ieri mattina con il presidente Franco Iachetti. Oramai sono vaccinato, sono abituato che ogni 2-3 anni si ritorni un po' la carica. Prima successe con la legge 25 del 2011 e non successe niente, tutta l'unanimità fu riconfermato e non allo scioglimento. Adesso si sta ritornando un'altra volta su questa situazione. Sto aspettando allora che cosa abbiamo fatto. Noi ieri abbiamo fatto una riunione con tutti i sindaci per capire che cosa non vogliono fare. Ma sia ben chiaro per chi mi sta ascoltando in questo momento. Il consorzio BIM può essere sciogliato in qualsiasi momento dell'anno. Basta il 50 più uno dei comuni. Siccome sto toccando con mano, invece c'è la volontà, al di là del colore politico, di mantenere questo end, perché questo end è utile. Il mercante parla di spengere il review, ma qui non c'è questione di spengere il review, in quanto a noi i soldi ce li dà l'Enel. Al BIM, Vomano e Tordino non percepisce né dallo Stato, né dalla Regione e né dai comuni. Quindi viviamo con l'Enel distribuzione. Ricordo che quando entrai come Presidente ingassevamo circa un milione e tre rotti, adesso ne ingassiamo due. Il fiore all'occhiello, e lo ripeto, noi siamo stati capaci di ingassare 4 milioni e 7 riversate direttamente dai comuni per quanto riguarda allora l'ICI, che adesso è l'IMU. Il consorzio, sempre a detta dei sindaci, ha costi talmente bassi che la sua eliminazione non porterebbe alcun significativo risparmio. Al Comune di Pescara è stato presentato il progetto evento del Centro Ananche contro la violenza sulle donne dal titolo Viola Siamo Tutte Noi, in occasione della giornata contro la violenza di genere. La musica come strumento di solidarietà che sposa cause importanti, come quella contro la violenza di genere, quella a favore della dignità umana, quella sull'autismo e sul migrante. A sostenere l'iniziativa dell'Associazione di Martin e delle associazioni di solidarietà c'è il Comune di Pescara, che invita a partecipare tutti coloro che vogliono farsi parte attiva dei progetti in campo. Per la giornata internazionale contro la violenza sulla donna, il 25 abbiamo un incontro istituzionale in provincia organizzato da Danche, dove verranno dati i dati nazionali su questo fenomeno. Il pomeriggio, come assessorato, abbiamo organizzato un evento che abbiamo chiamato il Tè dell'amicizia, dove le associazioni che vorranno essere partecipi di questo momento di solidarietà, ma soprattutto di ricostruzione di una rete, anche appunto di amicizie tra coloro che sono sul territorio tutti i giorni. A conclusione di una serie di iniziative che sono state messe in campo, appunto in occasione di questo evento, c'è il concerto del 27 novembre. Il concerto è a sostegno di un progetto concreto, l'apertura della Casa Viola, una casa rifugio per donne e ragazzi, bambini, bambine che si trovino in una situazione di pericolo, quindi in cui l'incolumità psicofisica sia a rischio. L'esigenza del territorio è quella, appunto, in provincia di Pescara sarebbe la prima struttura con queste caratteristiche, è un tassello prezioso ed è una risposta concreta, cioè un coinvolgimento non solo di un'associazione, ma di un raccordo costante tra l'istituzione e il privato sociale. Novità sono state annunciate oggi al Media Museum di Pescara in vista del 42esimo convegno del Centro Studi D'Annunziani. A breve verrà inaugurato anche il sito internet con tutti i carteggi del VATE. Noi stiamo cercando di riportare o portare D'Annunzio nelle scuole e portare le scuole anche da noi. Perché portare D'Annunzio nelle scuole? Perché abbiamo intitolato questo 42esimo convegno D'Annunzio e la lingua italiana d'oggi. Tutti sanno che D'Annunzio è stato un grande innovatore, ma non sanno che certe parole, soprattutto i ragazzi, come per esempio Scudetto, oppure Travezino, o Velivolo, o Folle Oceaniche, eccetera, sono parole, neologismi coniati da Gabriele D'Annunzio. Presenteremo un concorso, sempre per coinvolgere di più i giovani delle scuole, le parole di D'Annunzio. Chiederemo a tutti i ragazzi delle scuole secondarie operanti in Italia e all'estero di scrivere un breve testo di 500 parole su un neologismo, su una parola d'Annunziano. Devono commentarla e noi poi una giuria assegnerà dei premi, sono più di 2 milioni i ragazzi che studiano nelle scuole secondarie e quindi questo sarà importante per promuovere la figura e l'opera di D'Annunzio nelle scuole. Presenteremo il sito web del Centro Nazionale di Studi D'Annunziani dove stiamo raccogliendo tutti gli atti, le relazioni di tutti di 41-42 convegni, sono più di 10 mila pagine e quindi da ogni parte del mondo, a partire da, diciamo, tra non molto, potranno consultare le relazioni di grandissimi studiosi di D'Annunzio, relazioni che non si trovano più perché nemmeno gli atti sono spesso rintracciabili. Nel 2016 ci faremo una quindicina di incontri che si intitolano D'Annunzio e gli altri, cioè ogni volta avremo una conversazione, intervista con un personaggio che si è occupato di aspetti legati ad Annunzio, quindi D'Annunzio e Mussolini, D'Annunzio e Pirandello, D'Annunzio e Antonino Libero, un pescarese, D'Annunzio e le signore della moda, insomma, sono tematiche che spaziano in varie discipline. Torna ad animarsi il fine settimana Terramano nel centro storico della città che dal 27 al 29 novembre ospiterà il Teramo Black Friday. Il Black Friday è un giorno importante dove, nei paesi dove questo è diventato una tradizione, è un indicatore per la guida, diciamo, anche per gli esercenti per quanto riguarda il consumo perché dà un indicatore di quanto ci sia predisposizione nella fase presaldi del consumatore a comprare, ad acquistare e quale merce acquistare in questa fase e quindi credo che per questo sia importante. Io sono felice perché soprattutto i commercianti e gli esercenti fanno squadra, noi in questo li appoggiamo e li appoggeremo sempre perché ci sembra importante riportare l'attenzione su quello che è il nostro motore principale, il motore della nostra economia. Quanti sono i commercianti che hanno aderito a questa iniziativa? Siamo oltre 120 e qui devo dire che va fatto davvero un ringraziamento, come dicevo poco fa, a tutti i colleghi i quali sono stati sollecitati e hanno aderito in maniera massiccia. Un invito potrebbe essere rivolto anche fuori al Terramano? Assolutamente sì, proprio perché poi la comunicazione è stata fatta su tutta la provincia e soprattutto regione, soprattutto sulla costa, proprio perché ci auguriamo che siano in tanti a venire a Terramano, considerando poi la scontistica, devo dire, molto impegnativa ma molto importante anche per i clienti. Le proposte, ricordiamolo, sono di oltre 100 punti vendita scontate fino al 30%? Esatto, ogni negozio indicherà la propria scontistica, partiamo venerdì 27, tra l'altro con l'illuminazione, accenderemo le illuminazioni natalizie che questa è la prima volta che succede, poi avremo il sabato, apertura totale fino alle 24 con delle band che gireranno per la città e poi domenica avremo degli artisti di strada e saremo aperti anche la domenica. Apriamo la pagina sportiva e lo facciamo chiaramente con la serie B, resta in dubbio nel Pescara, la presenza del portiere Vincenzo Fiorillo che ricorderete nella gara contro l'Avellino dopo uno scontro col compagno di squadra Fornasier ha riportato la frattura del setto nasale, la sua situazione, le sue condizioni vanno monitorate nei prossimi giorni, se non ce la dovesse fare toccherà chiaramente ad Aresti. Nessun problema invece per Verre, Ben Ali e Memushai, qualche piccolo acciacco ma saranno tutti a disposizione, da valutare invece Crescenzi, vittima di un virus intestinale proprio nelle ultime ore. Chi ci sarà a scanso di eventuali ulteriori contrattempi è l'uomo del momento in casa Bianca Azzurra, ovvero il bomber, il capocannoniere Gianluca Lapadula che abbiamo avvicinato poco fa nel corso di una manifestazione per il sociale e qui sta aderendo anche la Pescara Calcio, ascoltiamolo. Questo entusiasmo travolgente dei piccoli tifosi del Pescara, Gianluca Lapadula è l'idolo della Nord ma anche l'idolo dei tifosi del Domani del Pescara. Sicuramente i ragazzi amano la maglia Bianca Azzurra e sono fedeli, per ora è normale, l'attaccante quando fa gol è sempre nei cuori della gente, mi fa molto piacere essere apprezzato sia dalla curva che dai bambini ma è un amore per la propria squadra e della città. Parliamo allora di questo campionato che sta entrando sempre più nel vivo dopo la vittoria dell'ultimo turno, c'è questa gara di Cesena, una prova di maturità l'ennesima per il Pescara. Sì, direi che in Serie B c'è una prova ogni settimana che abbiamo imparato vendendo cara della pelle e a volte lasciandola anche che questo campionato non puoi mai prendere la partita sotto gamba. Vedi con la Ternana, abbiamo preso dei punti, sicuramente quella di Cesena sarà un big match. Hai abituato troppo bene i tifosi del Pescara nelle ultime settimane, nell'ultima partita non è arrivato il tuo gol, ci sei andato vicino, però è chiaro che segnare tutte le partite diventa oltremodo difficile. Io mi preoccupo quando le occasioni da gol non le ho, quando le ho come con l'Avellino e c'è stata anche la prestazione, sì mi dispiace di aver fatto gol ma vuol dire che ci siamo e dobbiamo continuare così. La coppia gol, la Padula-Caprari è la più prolifica del campionato? Per adesso sì, direi che stiamo facendo bene ma ci sono altri giocatori come Sanzovini, i Cocco, i Cappelluzzo, i Mitrita che si allenano sempre bene e ci danno una grossa mano. L'ultima Gianluca, tornando alla gara di venerdì in terra di Romagna, ci saranno quasi mille tifosi del Pescara, non dico che giocherete in casa ma ci sarà un grande entusiasmo anche da parte del popolo biancazzurro. Ma direi che quest'anno il tifo del Pescara ci ha abituato bene in trasferta, abbiamo vincito sempre tanta gente, tanto sostegno, poi per me a Cesena sarà una partita importante, scenderemo sicuramente in campo con la fame e la cattiveria giusta. Dice bene la Padula che sarà uno degli ex di giornata, sarà un ex che indosserà la maglia biancazzurra, in bianconero anche lì ci sono tanti ex, da Cone a Ragusa a Mazzotta e soprattutto Emanuele Cascione. Non sarà della partita sulla sponda Cesenate il centravanti bosniaco Djuric che ha riportato un infortunio muscolare che lo terrà fuori per circa quattro settimane, dunque sicuramente assente venerdì sera, ore 21 al Manuzzi. Cesena Pescara, 12 i giocatori squalificati dal giudice sportivo in Serie B ma non ci sono giocatori di squadre abruzzesi o delle avversarie delle abruzzesi. Parliamo a proposito di Virtus Lanciano che sfiderà nel prossimo turno il Latina, oggi seduta doppia di allenamento per la squadra di Roberto D'Aversa, lavoro a parte ancora una volta per il centrocampista Di Cecco, il difensore Amenta e l'attaccante Ferrari. D'Aversa conta di recuperare tutti e tre in vista del match contro la squadra di Somma. Ma è un momento questo in casa Virtus Lanciano, denso di riflessioni anche in ottica del mercato di gennaio. È un momento di ampie riflessioni in casa Virtus Lanciano. La scintilla che avrebbe dovuto ridare fiato alla classifica e feducia all'ambiente non è ancora scoccata e allora ci si interroga su quello che c'è da fare per invertire la rotta. Ben sapendo che tempo ce n'è ancora, sarà però importante accelerare il passo nel prossimo mese per poi affidarsi ad un mercato di gennaio col quale apportare quei correttivi necessari a giocare una seconda parte della stagione di buon profilo e accaparrarsi così la salvezza. Invertendo così il trend delle ultime due stagioni quando la Virtus ha fatto meglio nella prima parte del campionato che nella seconda, ma arrivando a lottare per un obiettivo diverso, i play-off. Semmai, ricalcando le orme della prima stagione con Gautieri in panchina, quando un'ottima seconda parte portò alla salvezza passando da alcune mosse nel mercato di gennaio rivelatesi decisive su tutte l'acquisto di Antonio Piccolo. Ecco, servirebbe una mossa di questo tipo per risolvere il problema dell'anemia del gol. Ferrari si è spento dopo il buon avvio, Lanini, Di Francesco e Padovan sono stati quasi nulli sotto questo profilo. Solo Marilungo ha una forte attenuante, un anno di inattività. Per il resto i nuovi di questa stagione hanno deluso e a tirare la carretta è stata la vecchia guardia, i soliti noti. Per i nuovi le prove d'appello iniziano a scarseggiare, ecco perché da sabato prossimo al Biondi contro il Latina si richiede una brusca inversione di tendenza. La partita assume contorni delicati, da non sbagliare perché la squadra di Somma è comunque avversario alla portata e i tre punti sono quanto mai necessari per iniziare la risalita. Il tecnico da Versa spera di avere a disposizione Nicola Ferrari e Federico Amenta che hanno saltato le ultime due partite ma che ieri hanno iniziato un programma di lavoro differenziato che potrebbe portarli al piano recupero. A disposizione saranno anche Marilungo tenuto fuori precauzionalmente a Chiavari e Di Cecco che nella stessa gara, dopo aver segnato, è uscito a inizio di ripresa per un acciacco che non sembra destare preoccupazione. Da Versa proseguirà con il modulo ad albero di Natale che ha denotato progressi, i quali però andranno tradotti nella terza vittoria in campionato. Scendiamo in Lega Pro intanto con le decisioni del giudice sportivo che ha fermato per un turno il difensore della Robur Siena, Celiento, e quello del Prato, Gaiola. Dunque questi due giocatori salteranno rispettivamente Teramo Siena e l'Aquila Prato. Ci sono anche le designazioni arbitrali. L'Aquila Prato, gara che si giocherà domenica alle ore 14 al Fattori, sarà diretta da Davide Curti della sezione di Milano. Teramo Robur Siena che invece inizierà un'ora dopo, sempre domenica, ma alle ore 15, Teramo Siena sarà diretta da Luca Massimi della sezione di Termoli. Inutile dire che per il Teramo è una gara molto delicata, quella contro la squadra allenata da Azzori. Potrebbe far parte di questa gara anche il capitano Ivan Speranza che ha iniziato ad allenarsi a parte la scorsa settimana e la cui condizione comunque da monitorare nei prossimi giorni. Oggi il capitano Biancorosso ha parlato, ascoltiamolo. Conosco molto bene il Presidente, conosco la sua voglia di vincere sempre, la sua passione che ci mette qui nella Teramo Calcio, quindi è normale. Ci deve essere solo da sprono, prendere le sue parole solo da sprono e da aiuto per tutti noi, perché lui giustamente vuole solo, gli piace solo vincere. E deve essere così anche per noi, perché la nostra mentalità è sempre stata questa, comunque è una mentalità abbastanza vincente, derivata anche da lui, soprattutto da lui. Quindi dobbiamo cogliere il suo sfogo, le sue esternazioni in maniera positiva, solo per far bene e per vincere. Le mie condizioni ho iniziato a correcciare venerdì, quindi stiamo andando giorno per giorno, vediamo un pochino la condizione, i dolori fisici come sono. Valutiamo giorno per giorno insieme allo staff tecnico e medico. Purtroppo le squadre ci conoscono, ci conoscono dall'anno scorso, sanno come giochiamo, quindi adottano la tecnica migliore che loro, che nel senso ci aspettano e magari ci ripartano. E noi, avendo quella voglia comunque di far goal, di sempre propositivamente andare avanti, magari ci sbilanciamo anche troppo a volte. Però dobbiamo essere bravi a calarci in questa mentalità nuova e di lottare di più, nel senso essere, come ho detto prima, più compatti, sacrificarci di più per il compagno, che magari è la cosa migliore secondo me. Magari in queste partite c'è stato un po' di meno, però la cosa migliore è uscirne con il gruppo, perché il singolo secondo me non è che ti può vincere tutte le partite. Un'ultima notizia prima di chiudere, parlando di Serie D, la gara valevole per la quattordicesima giornata del Girona F tra San Nicolò e Amiternina sarà anticipata a sabato, ore 14.30, questo per la concomitanza con la gara di Lega Pro tra Teramo e Robursiena, che come detto si giocherà domenica, quindi il San Nicolò anticiperà contro la Amiternina a sabato, ore 14.30. Io vi ricordo prima di chiudere l'appuntamento doppio proprio con la Lega Pro di questa sera, a partire dalle ore 21, Pro Teramo con Jacopo Forcella, a seguire Pro L'Aquila con Giulio Nardi. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per l'attenzione e buona serata.